Dove la vai? Permesso, scusami. Ma adesso vengo da ora. Ma avete visto che è bella? Benissimo. Vedete anche la cupola di San Pedro. Sì. E poi anche questa è bellissima. Questa è bella. Molto, molto bella. Meravigliante. Siamo troppo da iniziare. Ma quanto? Anzi, abbiamo fatto il treno da Riva Nuova. Ragazzi, la facciamo la polizia. Non me la piglio più. Grazie.